Il mondo dell'alpeggio protagonista assoluto del weekend del 15 e 16 settembre. L'occasione è l'arrivo in tesino delle pecore che rientrano dai pascoli estivi per spostarsi verso il mare ai primi freddi. Del resto l'antica tradizione trentina della transumanza da sempre caratterizza la catena montuosa del Lago Rai e viene celebrata con questo festival dedicato al mondo dei pastori e dei loro animali attraverso trekking tematici, dimostrazioni di tosatura, un mercatino di prodotti locali, gastronomia, musica e laboratori. Nel pomeriggio di sabato spazio però anche al dibattito con un convegno dedicato alla pastorizia in montagna e all'impatto dei grandi carnivori, un confronto pubblico tra istituzioni e tecnici del settore. La transumanza è un'attività che nella catena del Lago Rai si tramanda da secoli, di generazione in generazione e questo perché l'alpeggio per questo territorio è fondamentale sia dal punto di vista economico e sociale sia per la conservazione del paesaggio interessato dall'attività estiva delle malghe di alta quota. Il festival della transumanza dal Lago Rai al mare lungo via Augusta giunge quest'anno alla sua terza edizione e celebra all'alpeggio lo spostamento del gregge che dopo aver raggiunto per l'estate i verdi pascoli di alta quota rientra in pianura al termine della stagione calda. Tutte le informazioni sono sul sito visitvalsugana.it slash transumanza